Anticipare l'apertura di parrucchieri, barbieri ed estetisti al 18 maggio è la richiesta avanzata da Anci Campania alla Regione e alla Presidente Vincenzo De Luca. Due settimane prima dunque rispetto alla roadmap tracciata dal Governo che ha previsto la riapertura dei suddetti esercizi il 1 giugno ma che si pone in linea con quanto disposto da Regioni come Lazio e Puglia che hanno previsto la riapertura di tali attività per il 18 maggio. Il prolungamento del lockdown, scrive Anci, sta gettando nello sconforto tanti operatori che confidano in una ripresa del lavoro entro maggio attraverso la messa in atto di un provvedimento regionale in tempi brevi.